Il gioco d'azzardo è una malattia e chiamarla per nome è necessario per guarire. Lo ha detto il Vescovo Armando che ha introdotto l'incontro Il Gioco d'azzardo, un problema sociale del nostro tempo. Una tavola rotonda condotta da Gabriele Darpetti, direttore dell'ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro, che ha visto l'intervento di diversi esperti del settore. Federica Rossi dell'associazione Il Paese dei Balocchi ha tracciato un'ampia e dettagliata panoramica sui dati del gioco d'azzardo. Le Marche sono nella media con 6.860 slot machine e 1.257 videolotteri, con un volume di gioco di oltre un milione di euro, con una spesa pro capita di 270 euro. Ha evidenziato la Rossi, sottolineando poi come il 66% dei giocatori patologici risulti disoccupato. Lo Stato, ha concluso Federica Rossi, dovrà fare i conti con questa realtà. A prendere la parola poi è stata Silvia Cavoli, terapeuta della cooperativa IRS e l'Aurora, che ha illustrato il lavoro che svolgono, sottolineando l'importanza di costruire insieme ai malati un cammino di crescita e reinserimento nel territorio locale. Il docente di economia, tra i massimi promotori del movimento slot mob, Leonardo Becchetti, ha presentato il fenomeno del gioco d'azzardo e delle battaglie che si stanno combattendo contro questa dipendenza. Citando le parole del Papa, il professor Becchetti ha concluso, affermando che occorre avviare processi piuttosto che possedere spazi, perché il tempo è superiore allo spazio. A concludere l'iniziativa è stata l'assessore alle politiche sociali Marina Barnesi, la quale ha sottolineato che come amministrazione locale sono state prese e si continueranno a prendere decisioni per arginare questo fenomeno. Al termine del convegno si è svolto presso il circolo Acli di Bellocchi il primo slot mob.